Come non pensare allo stupore di Elia che in un tempo di siccità e di carestia è stato inviato a una povera vedova che si trova solo col suo piccolo? Come può una vedova venire incontro alle sue esigenze? E come non pensare anche allo stupore della vedova che nella sua indigenza si trova ad accogliere un uomo e a sostenerlo? Ma il punto è proprio questo. Sia Elia che l'aveto di Zerepta stupiti obbediscono alla vita che gli si presenta in cui Dio è l'attore principale ed è per questa fede che poi Dio compie opere grandi ma così vale per ciascuno di noi. Noi non pensiamo che le nostre fragilità, nelle nostre piccolezze, Dio possa fare grandi cose. A noi però è chiesto di credere, di fidarci di Lui, di lasciare Lui a compiere la Sua opera, ma è questo che ci rende sale della terra e luce del mondo perché le nostre fragilità, nelle nostre miserie, nelle nostre debolezze, fidandoci di Lui poi contempliamo l'opera del Signore ed è così che diventiamo sale della terra e luce del mondo. Buona missio.